E passiamo alle news della settimana. Sono corpose. È una fase di caldo anomalo, quella che stiamo vivendo. È caldo anomalo, è stata che non finisce. E quindi, cosa si può fare con sto caldo in città? A me vengono delle idee, tipo questo. Guarda che bravo, guarda. Per buttarsi. Dinamico. Oppure piscina. Ma a me sembrava, vabbè, niente, non sto lì a... Oppure in un bel laghetto. Eh, bravo. Eh, sì, con dignità l'importante è tuffarsi. Oppure fare una bella proposta di matrimonio. Questa è molto bella. Con tanto di anello. Sì, sì, in ginocchio. Guardate bene lui perché non lo rivedrete mai più. Se l'è portato via il mare, per sempre. No, non si sale così, eh. Leggite in canoa. No, ci si siede. Mi stanno spiegando come fare. È fine. Eh, dai, su. Dovrebbe anche mettere la pagaia che ferma la canoa. Sì, poi tieni la canoa. Vabbè, ha fattuto anche quello dietro. Sì, pronti? Dai. Vai. Bellissimo sport questo, eh. Sì, non so come si chiama. Dallo sport. Golf. Golf in particolare. Certo. Perché a Roma, l'Europa, ha vinto la 44esima edizione del Ride of the Cup. Certo. E infatti, guardate questo esempio su quel fista. Questo non l'ha vinta, te lo dico io. No, ha vinto qualcos'altro. Ahia, che dolore. Secondo me, invece, questo è uno bravo, eh. James Hahn. E infatti, va che colpo. Guardate come festeggia, eh. Eh, ebbè. James Hahn. Al tennis l'avrebbero linciato uno che festeggia così. Deve essere di origine coreana, qualcosa mi dice, eh. Eccolo. Anche lui non ha vinto. Peccato, c'era un bel castello anche sullo sfondo. Però si è rinfrescato, eh. Però il tiro non era malvagio, eh. No, no, certo, se riesce a uscire dal fiume. Hanno dovuto usare un argano, ma alla fine l'hanno portato su. Lui ci insegna. Bravo, distance. Vai. Sto andando bene, eh. Vai. Ha rotto il pavimento. Però è stato simpatico. Cosa copre? Attenzione qua, pronti? È un po' di vento, eh. No, ha preso il cameraman. Attenzione, ma dov'è qui? Sughiaccio, è difficile sughiaccio. Ma cosa è sughiaccio? Deve stare molto attento. Ah, no, così. Vabbè, possiamo dirlo, è morto. Eh, vabbè, pazienza. Ma dove oggi è stato? Il nome è per la fisica. E quindi parliamo di fisica. E cominciamo dalla legge della dinamica, no? Azione e reazione. Azione è aprire un forno. Per me è la legge del Pia, però, vabbè. E bestemmiare in tre lingue. Anche questa che legge è? Questo è il movimento infilatorio. No, è il movimento sexy, credo. Sì. E qua invece, guarda, legge del pendolo, guardate, eh. Potrebbe arrivargli in faccia e invece no. Eh, bravo. Applausi. Vado con quei denti. Ma io proverei con una ragazza. Sì, un'allieva, vedi? Eh, come va? Un melone di marmo, lo trattato. Ne ha rifatto tutti i denti. E questa che legge è? È il principio della leva, dai, no? Come si fa? Datemi una leva e solleverò il mondo. Nel senso che si è levato qualcosa. E qua invece... Questa è la migliore. La legge di Boyle, no? Guardate, applicate una macchina per gasare le bibite. Sì? Eh, fatto bene. E io la proverei a rifarla. Ci è rimasto malissimo. Ciao, l'appascio!